Ciao a tutti ragazzi, sono Warchi e benvenuti in questo nuovo video, questo pre-video, questo pre-tutto Oggi ragazzi sono qui per dirvi che sto facendo Che abbiamo fatto un Minecraft Roll con Dani e Matteo Fire 97 Matteo Fire 97, Matteo Fire 97, non so, ho pregato tre volte E vi chiedo di lasciare un like e se arriviamo a 500, anzi 1, 2, 3, 4, 500 va benissimo, sono spastico Faremo un altro Minecraft Roll, sempre con Matteo e Dani, magari anche su altri canali E il server in questione è il nostro, infatti siamo admin Abbiamo fatto casino sulle Skywars, quindi io vi lascio all'intro Hihihi, marci burlone, ciao a tutti Hihihi, marci burlone Allora, provate a parlare Ciao Ok Bella a tutti ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video troll Ciao Marci Ciao Sono Marci e io sono Dani Siamo qui con Io sono da Lion Che cazzo è da Siamo ora con Matteo Fire e Danny Lion E Io mi tippo ragazzi E praticamente siamo sui server Sul nostro server Sul nostro server Sul nostro server E qua c'è un casino C'è di tutto C'è di tutto Aspetta no, facciamo così Facciamo gli scherzi No ragazzi, a parte gli scherzi Siete tutte e tre in Vanish Siete tutte e due in Vanish Siamo già in Vanish Ok Prendete solo una spada E tippatevi da uno a casa Ah, tippatevi da me quando ve lo dico Ok Io sono da Gio Freed Vediamo se Vabbè sti cazzo Ok È bellissimo Però ha vinto Ah no, non ha vinto Sì, no Ma io vedo gente che è tipo con un secchiello in mano Invisibile, oddio Allora, andiamo Ti ho mandato qualcun'altro Aspetta TP Merda Aspetta con un fiore Io vado in giro con un fiore Dai, è vero, vero Andiamo in giro con i fiori Allora Andiamo in giro con i fiori Anzi Anzi Spogniamo tipo mucche Quelle cagate lì E danno solo unicamente fastidio Senza tipo Aspetta Andiamo allo spawn E vi dico Io spawn Non ho capito Ripeti, ripeti Ripeti Allora, tippatevi da me quando ve lo dico io Tippi questo così Matteo Ok, io sono pronto Io sono prontissimo Io sono prontissima Vai Guarda Andiamo in step Così piano piano Tipo così guarda Tipo Non riuscendo Io metto Io metto tutte Le mucche Io metto un bill Io metto bill Oddio Aspetta io comincio a mettere un po' di chi Ma qua si vedo le cose che volano No No, bill è morto per un creeper Diverso Quello sta lottando con le mucche Ciao E' morto Minchia Ma dove è l'altro? Ce n'è un altro? Ma no Venite da me Fate Tp K Andate da Keep Up Ok Sì in partita In partita Sto per iniziare adesso In stealth Raga In stealth No Non mettete sta roba In stealth In stealth Vai Tipo così Vai vai Questo muore sicuro Guardate Guardate No vi prego Sto morendo Guardate come guardava Poveretto Ma perché non parte esattamente Ah che Mi sa Oh Dio Gente che si butta per Perché E mi sa che questo pure Oddio Oddio Mori Mori È morto Ok E' finito anche questo Andate da Andate da Sentite questo Sentite questo Schiacciate X E andate da X X Red Gamer Ok sì Stati in stealth Li metto un creeper dietro Ciao Non ci voglio Che si Teo Teo No no C'è 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 Sbagliato Vai C'è Gente che mora a casa Aspetta Nessuno Quasi Ci affiscono Tipo da cavia Tu li lanci E vanno Dostare al nemico Vai Cyberfish Portaci dal nemico Io vado da Da keep up ancora Player not found Gente che esce Maranga Fox Vai C'è 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 Fai tp O E vai da Over O Otis Io sono da Otis X grad Senza messo la partita X grad 98 X 98 Dammi 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 1 Un po' di ghast in giro E poi c'è un cazzo E' vivo Buttati giù o buttati? Sì Comunque salutiamo x-gland Mi avevo detto che è l'unico che sta resistendo E' morto Tutti i silver peschi si è morto E' 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 morto No aspetta ragazzi Adesso facciamo una cosa ancora più bella Andiamo dalla gente Con tipo un fiorellino E' morto 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 olicissimo Lucissimo Fia Ci sono ci sono ci sono Ah li metti le squadre E' finita la partita? C'è c'è ancora Ok, facciamo una cosa, andiamo sempre da, io vado da Xglade98 che c'è ancora. Vai, 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 vai. Dai, aspetta. È vivo! Guarda, 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 guarda. No, dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, buttiamo, no, raga, facciamo casino, facciamo casino. Prendetevi una pozione dell'invisibilità e non si vede nessuno, dobbiamo andare in una partita che sta per iniziare, però. Aspetta, aspetta, guardate, 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 guardate. Guarda quanti squid. Quanti squid ci sono? Trova l'intrusa. Si sta ammazzando da solo, poveretto, non so dove cosa fare. Guarda, si las... Caccia di sé. Ok, raga, ho seguito adesso me. Prendetevi tutti una pozione dell'invisibilità da 6 minuti, andiamo in una che sta per iniziare. E gliela diamo a tutti quelli che sono nella cosa di vetro, quindi veloci. Fate TP. Proviamo ad andare da Blaster 99. No, no, ancora no. Dobbiamo vedere uno che si sta per buttare. Esatto. Giacomo 23. Giacomo 23 si sta per buttare, sembro. Vi dico io quando andare da Giacomo. No, ancora no. Andate da NK, NK qualcosa, velocissimi. Velocissimi, NK game, veloci. Veloci, velocissimi, non riesco a uscire, non riesco a uscire. Perché non riesco a uscire? Anche io. Perché ci siamo messi nello stupido. Non ci credo. No, ragazzi, comunque, date l'invisibilità a tutti. Ma perché ho preso quello da bere? Ma sono proprio coglione. Ora non si vedono più, guardiamo dall'alto. Non si capisce io. Oddio. Eh, ma non si capisce. Eh, boh. No, questo qua si vede che ce l'ha fatto. È vero. Non ci voglio credere. Ma guarda, Rika. Questo c'è la saletta. Non si capisce niente. Stai, Rika. Io lo distrago con lo squeal. E poi lo ci vedete con il creeper. Quale? Questo dove sta andando in squeal. Ok. Ok, che l'hai messo? Guarda, guarda. Ci è rimasto di merda. Guarda, questo qua, questo qua. Vedi, vedi, vedi. Questo è morto. Sei salvato. Sei salvato. Devi morire. Ma Marci non ha. Hm? Cosa? Ma c'è ancora gente? No, adesso sono... No, come faccio a togliermi l'armatura, raga? Vai su la chest. In basso a destra. Ma chest in basso a destra? Vero, 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 scusa. Ma c'è gente ancora vive in sta cosa? No. No, eh no. Questa qui... No, sì. Parei da Ender Drake. TP, Ender... Non me lo dà. Ok, c'è. Ok, c'è. Dove non è qua? Non c'è abbastanza... No, metteteli tutti i mob docili. Mettete mob docili che non può morire. Va bene. Tipo... Eh sì, Creeper. Il Creeper non è docile. No, mettete tipo... Ehm... Uppile. No, le witch, no. I maiali mettete. Guardalo, poveretto. Sta capendo più niente. Per me si è suicida. No, tizio, stai registrando. Vabbè, ciao tizio. Ciao tizio, mi dici a servire a trollare. Qua c'è Creeper, c'è di tutto, cioè. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a passare dal nostro server che è mc.leicraft.it I minigame che ci sono li conoscete già però, ve li ripeto, sono Universe, Creative... Sono tazza Creeper e... Poi ci sarà anche la modalità del CG che verrà implementata a breve. E da Marce è tutto, da Matteo è tutto, da Dania è tutto e dall'intruso tizio è tutto. Ciao a tutti. E che lo swag sia con voi.